Benvenuti amici, un saluto da tutti i miei nomi e cento, siamo qui con un nuovo video oggi, siccome vi avete chiesto veramente in tanti, vi mostro come creare il nuovo giocatore proveniente dal San Paolo, il nuovo giocatore del Lille, Thiago Maia allora, nome Thiago, cognome Maia, Thiago Maia, Thiago Maia, Brasile Lille è un centrocampista, un mediano, possiamo definirlo così, centrocampista difensivo Maia, 20, piede sinistro, è nato il 23 marzo del 1997, questo riguarda le info del giocatore brasiliano, passiamo all'aspetto, 179 cm x 64 kg medio, carnagione mettiamo la terza capelli, stile lunghezza, andiamo corti, andiamo a cercare tagliati corti con i capelli nero, mettiamo sempre, stile barba, mettiamo barba completa, colore barba nero, sopracciglia, posizione sopracciglia alte e in fuori forma sopracciglia allargate giù e sottili occhi, taglio degli occhi giù, grandi giù dettaglio occhi 1 in fuori, normale in fuori dettaglio occhi 2 larga e aperta colori occhi marrone orecchie, posizione orecchio in fuori tipo di orecchio, lobo no naso, posizione naso leggermente alto e basso tipo di naso normale profilo naso curvo dentro in dentro piccola narici basso e strette dettaglio narici allargate facciamo le guance, posizione zigomi sporgenti e bassi tipo di guancia piatte bocca, posizione bocca e larga su, sopra labbra ricurvo e ricurvo stile labbra su e a destra mascella bassa e definita mento squadrato corto in dentro questo per quanto riguarda l'aspetto di Tiago Maia per quanto riguarda gli accessori possiamo mettere così ma poi o meglio gli scarpini mettete ognuno quello che preferisce perché non li ho messi non lo so mettiamoli questi qui così è da cavolo stile maglie eccetera passiamo ora alle categorie attacco cross 40 finalizzazione 65 testa 75 passaggio corto 75 tiro al volo 40 piede debole 3 difesa marcatura 75 contrasto in piedi 75 scivolata 70 abilità dribbling 65 effetto 50 punizione 70 passaggio lungo 80 controllo palla 70 potenza potenza tiro 80 elevazione 70 resistenza 80 forza 70 tiro dalla distanza 75 movimento accelerazione 75 scatto 75 agilità 70 reattività 80 equilibrio 70 mentalità aggressività 65 abilità tattica 75 posizione in attacco 65 visione 70 rigori 70 infine portiere potete uscerlo tutto così quindi ragazzi questo per quanto riguarda come creare Tiago Maes spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like commentate condividete iscrivetevi proviamo ad arrivare almeno a 100 150 like non mi sembra di chiedere una grossa cifra continuate a consigliarmi giocatori che vi piacerebbe avere su FIFA 17 che ancora non sono presenti ancora non ho creato vi chiedo per favore di non chiedermi giocatori già esistenti perché secondo me non ne vale assolutamente la pena non vale assolutamente la pena usare degli slot diciamo di creazione giocatore per giocatori già esistenti poi adesso vi porterò un video sinceramente dove vi mostrerò il metodo che io utilizzo per i salvataggi delle rose in modo tale che anche voi possiate avere diverso spazio perché molti mi avete detto che non avete più spazio per i giocatori vedremo nei prossimi video quindi ragazzi lasciate un bel like commentate e condividete iscrivetevi ci vediamo al prossimo video continuate a consigliarmi al giocatore da creare e soprattutto magari anche altri tipi di video per esempio altri FIFA Predation oppure insomma qualsiasi altra cosa ciao ragazzi qui da Robert Mattri 1999 del P è tutto ci vediamo al prossimo video